Comunque tutto il tempo non mi hai guardato in puntata per niente, eri molto arrabbiato, non mi hai preso manco a ballare, ti ha dato fastidio che lui è venuto vicino a me per dirmi solo questa cosa, aspetta, poi nonché mi ha invitato anche a ballare e io gli ho detto guarda Riccardo, per me il ballo qua dentro ha un senso, non mi sento di ballare perché sto frequentando Fabio, mi trovo bene con Fabio, non mi va di fare questi tipi di inciuce, di incastrie. E ho detto di no, quindi a lui non gli ho dato modo di avere questa reazione veramente un po' esagerata, cioè era nero, ha detto che non può vedere Riccardo, no aspetta, eri proprio nero, con me poi te la sei presa, non è che non lo posso vedere, ho detto che quel giorno, te la sei presa con me, no ma lui appena iniziava il ballo, partiva e veniva, appena iniziava il ballo, se mi fai rispondere pure a me te lo spiego, appena iniziava il ballo lui chiapava e partiva e veniva da te, non aveva nemmeno il modo, di avvicinarmi perché arrivava prima lui, ma l'ha fatto una volta, poi c'erano tanti balli, tu non sei più venuto, l'ha fatto due volte, poi ho visto che te ci parlavi, io chiaramente non so quello che ti stai dicendo, ma io te l'ho detto, sono venuta da te a cercarti, la cosa mi infastisce, ma è una cosa che dovrebbe essere pure bella nei tuoi confronti perché ti fa capire che magari mi interessa, per carità, bella sì, ma addirittura da togliervi la parola, da togliervi la parola, secondo me no. Grazie